Ancora no, ma perchè Castillo? Ah, quella di prima. Brutta! Niente. Primo round nostro. Primo round è già vinto. Adesso ci piccano come prima Tracer. Poi Doofist. Anche Winston dai, così siamo a posto. Un altro giorno, un'altra battaglia. Non mi sto tanto preso. Dove sono? Anzo. Anzo lusso, eh? No! Anzo è morto. Ah, suon va. Ecco perché non si vedeva. Aia! Ce l'hanno con me! Eh, aiuto Odizi! Oddio è questa dentro? Io faccio schifo! Aspetta. Qua faccio un po' fine. Madonna Lucio, però che fastidio! No, ho fatto schifo, io ho fatto schifo. Ma questi hanno preso tutte le cose che ti arrivano in testa o... Basta, farò anch'io come loro. Usiamo Tracer. Oh, finalmente qualcuno che usa... Mo' era giusto. Eh! Scusa, eh! Ho sentito gente che mi vuole riportare. Oh! Widowmaker, credo. Widowmaker, credo. Ho visto qualcuno di Cecchini. Cecchino nemico! Sopra di te! Rev! Beh, ho ucciso Widowmaker, vai. Ho ucciso me. Ok. Ovvio. Hai vendicato. Quella è Ana. Ehi! Stallo! Vai, Folletta! Oh, ma quanto scappa! Madonna, che stress questa! Basta! Porca troia! Il mal di mare! Oh, ok. Ora ci faranno di nuovo un round così, spero. Ah, ma posso scegliere ancora? Ops! Ops! Allora, io piglio io! Stai, stai, stai! La confusione. Stai, stai, stai! Stai! Stai, stai! Stai, stai, stai! Stai, 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 stai! Un altro giorno rinno. Ah, spiazzavo a per selezionare, andava via Mickey. Oh. No, hanno cambiato. Oh, ho scioltato dunque. Sopra. Oh, c'hanno menci, va bene, sono già qua. Sì. No, c'hanno menci, va bene, sono già qua. Sì. ok oddio è diva madonna che fastidio ok l'ho smontata è stata lei è una beve diva oddio vai mamma mia il cuore diva giocata della partita allora è ma volevo provare sto sta fatina io tieni premuto per caricare una cura spari rapidamente una rosa di proiettili va bene non lo saprei però è stimolante match point è già zucca la gente ecco ancora diva a posto amici è stato bello a posto non capirai mai metto una torretta qui c'è ancora diva mi sa non entrare in casa mia diva l'impallinata mamma mia sta stato in mezzo ai coglioni però incredibile non se ne è accorta ma vai che cosa c'è c'è il bubble team in mano schifoso male che si può prendere un personaggio una volta è imbattibili e si è oh questa è bella vogliono venire tutti a buttare giù i redel 3 eh sì ok questo è il trio che non vince mai il primo round e invece non vince mai il primo round e beh ma non vince prima e dopo ah e tutti lì no c'è cosa di d'artista eh non c'ho i colpi eh eh si è fatta tolmite anche è rienimato quindi è come se avessero fatto 0 9 ucciglioni mamma mia ecco micchi ecco non facciamo come prima che cambiavo con l'ansia eh giocherò il mio miglior pick no vabbè anche questo fa schifo nelle mie mani il tuo miglior pick è il pick a random questo non lo so giocare ma proprio per niente madonna hanno preso Reinhardt che stress glielo faremo vedere noi pronti eh sì madonna oh ma sono cazzati questi ma dove sono? e che spavento micchi però che cadi dall'alto sono saliti tutti li guarisco io ciao ciao ragazzi mamma mia mamma mia ma come hai fatto a prendere danno alla fine che avevamo vinto la torretta ah la torretta nemica eh usiamo Ana faccia da infarto faccia da infarto ti perseguiterà la notte Ana con questo schifo di Anowinst ok è morto è già morto ma va che Ana è un DPS eh ma tu nomini qualcuno e muore eh eh ok ok fucile a rotaia carico no cosa che zompetta dove va pezzo di merda cioè si è preso una bombetta nel culo pure achievement oddio quella fazza però quella fazza è guidante eccolo qua che ritorna al best play of the game cioè basta fine della play of the game tra un po' ci bannano perché vinciamo troppo non lo so eh si è grazie a tutti